ok ciao a tutti ciao a tutti benvenuti bentornati esatto eccoci qua con un'altra conversazione abbiamo trovato il tempo per farla perché è importante di fuoco esatto ci permette poco tempo libero però insomma l'abbiamo trovato per oggi si e l'argomento è un po strano oggi uno strano e uno un po più normale ok abbiamo parlato abbiamo deciso di parlare di del matrimonio e del funerale ok due ricorrenze importanti nella vita però dal punto di vista di chi è invitato quindi non dal punto di vista di chi organizza questi eventi ma dal punto di vista di chi ci va esatto e soprattutto il funerale è una cosa che forse interessante perché magari del matrimonio anche in classe se ne parla o è capitato magari che qualcuno è stato invitato e magari il funerale un po più diverso ed è anche un'occasione un po più delicata in cui capire come ci si deve comportare più importante dopo l'ultimo video in cui giacomo e gaia parlavano del degli argomenti che gli italiani affrontano nelle loro discussioni è uscito che molti di voi non sapevano che cosa era il necrologio e da lì c'è scattata questa idea di parlare anche della morte visto che per noi non è così un tabù farlo esatto esatto però partiamo con il matrimonio lasciamo il funerale al secondo posto esatto esatto da quanto tempo non vai un matrimonio gaia è tanto dal 2019 l'ultimo matrimonio è stato ottobre 2019 e io settembre 2020 a un matrimonio completo invece l'anno scorso sono andata solo a una parte del matrimonio dopo vi spieghiamo esatto solo una parte quindi allora vediamo partiamo con l'invito quindi riceviamo naturalmente prima voce di solito si sa e poi arriva l'invito quindi la partecipazione al matrimonio un paio di mesi prima esatto si può riceverlo consegnato a mano direttamente dagli sposi se si abita nella stessa città e ci si vede spesso esatto oppure per posta a volte a me sono arrivati anche per posta se devo andare in un'altra città per il matrimonio esatto esatto e nella partecipazione ovviamente c'è scritto il giorno il nome degli sposi la chiesa in cui si svolgerà e in cui si svolgerà la cerimonia la chiesa o il comune se naturalmente la cerimonia è civile e poi dove l'orario l'orario giusto e l'indirizzo della chiesa certamente e poi l'indirizzo di dove si svolgerà il ricevimento questo di solito su un foglietto a parte che viene aggiunto all'interno perché come abbiamo accennato poco fa non tutte le persone sono invitate ad andare anche al ricevimento esatto perché si può semplicemente comunicare che ci si sposa senza però appunto impegnare quella persona nel venire al nostro matrimonio o nel farci un regalo però semplicemente si vuole informare quella persona che ci si sta sposando e quindi sì ecco può far piacere sapere a qualcuno che ci si sposa senza poi appunto che ci sia magari persone conoscenti o persone appunto non così intime da essere invitate al matrimonio esatto 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 oppure si può essere invitati alla cerimonia e poi alla parte finale della festa quindi dopo il pranzo o la cena esatto la parte che è proprio la festa quindi dove si mette la musica e cosa c'è ci sono i video divertenti da guardare qualche gioco sì diciamo dopo aver mangiato quindi solamente per bere per bere qualcosa assieme agli sposi per fare festa anche in questo caso di solito si fa questo con le persone che sono meno intime che però magari che ti fa piacere invitare che ci siano al matrimonio ecco questo non so se è strano per per qualcuno che non abita in italia fatecelo sapere perché sono curiosa se chissà magari è un'usanza che negli altri paesi non c'è quindi o inviti tutti o inviti una persona a tutta la giornata o non la inviti ecco esatto l'anno scorso per esempio stavo dicendo siamo andati al matrimonio di della collaboratrice di mio marito che conosciamo perché lavora con lui però non siamo indici intimi per esempio il marito non l'avevamo mai visto e lei ci ha invitato alla cerimonia e poi alla festa dopo sì ecco e ieri parlavo invece con un nostro studente che si sposerà il prossimo anno con una ragazza italiana e lui invece farà la cerimonia civile solo per la per le famiglie e dopo un mese farà una festa di tre giorni solo con gli amici quindi io ho approvato io non ho mai partecipato a un matrimonio che dura più di una giornata no neanche io però dal programma mi sembrava interessante ma quindi gaia l'invitato cosa fa riceve questo invito e la prima cosa è confermare ovviamente che ci sarà o non ci sarà e quante persone di solito insomma se c'è la famiglia se c'è un compagno una moglie così si conferma il numero delle persone perché ovviamente per gli sposi è molto importante sapere quante persone ci saranno per organizzare il ricevimento quindi il prima possibile si conferma o si il contrario di rifiutare quindi si conferma o si rifiuta se ci sono ovviamente motivazioni importanti il l'invito sì e si conferma direttamente agli sposi mentre in alcuni paesi si conferma alla madre della sposa sì per esempio credo se qualche inglese o scozzese sta guardando fatemi sapere perché l'ho trovato in un libro abbastanza recente ok sì un libro del 2012 quindi penso che questa cosa sia ancora valida però magari mi fido di quello che ho letto non so se è vero ok interessante saperlo no da noi si conferma agli sposi direttamente generalmente chiamandoli o insomma non si mandano lettere non è più così formale e poi si pensa un regalo ok anche se adesso quasi tutti gli sposi hanno tutto quello che serve esatto e quindi si sa che in automatico si deve portare la busta con il regalo in contanti esatto esatto alcuni preferiscono un bonifico per magari per il viaggio di nozze o sì esatto per quello che vogliono magari si fa la lista viaggio quindi si va in una agenzia e si può pagare una quota del viaggio di nozze degli sposi e sì di solito almeno ultimamente per me è sempre stato questo il regalo che ho fatto di più assolutamente o la busta o il bonifico esatto sì 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 e quindi ecco di solito è così non ho ricordi di aver regalato qualcosa di concreto sinceramente no neanch'io no no mi è capitato una lista in un negozio di casalinghi sì di una di due coppie di sposi che non convivevano prima del matrimonio e quindi sono andati a vivere insieme la casa era nuova e la loro lista era appunto dentro presso un negozio di arredamento in modo che appunto chi regalava i piatti che i bicchieri le pentole tutte le cose che servivano per l'appartamento questo evitava evita che succedesse scusate evita che succeda come tanti anni fa in cui qualcuno si trovava 20 vasi o 50 serviti di servizi o serviti mi sbaglio servizi servizi 50 servizi di tazzine da caffè ecco o di bicchieri o di bicchieri magari non ti piacciono così ecco quindi il tuo matrimonio hai ricevuto solo soldi no ho ricevuto anche qualche regalo fisico da persone non invitate da persone non invitate anche qualcuno da persone invitate sì però pochi sì la maggior parte la lista di nozze ecco una cosa interessante se sei il testimone dello sposo o della sposa di solito il regalo che devi fare sono le fedi cioè l'anello del matrimonio quindi è tradizione poi magari gli sposi possono indicare diversamente però di solito se sei testimone partecipi a il tuo regalo e poi aggiungi qualcosa perché ovviamente i testimoni di solito sono quattro e quindi si dividono i soldi di due anelli che non è così tanto quindi magari si aggiunge qualcosa però ecco di solito funziona così fatecelo sapere se anche questa è una cosa che succede nel vostro paese o magari è diversa e gli sposi si comprano le fedi da soli poi secondo problema è come mi vesto esatto reciclo un vestito di un altro matrimonio c'era qualche invitato che mi ha visto esatto mi ha già visto con quel vestito lo camuffo un po lo cambio però diciamo ci sono un po delle regole sì assolutamente no bianco e no nero per le donne sì e anche no viola di solito perché il viola è il colore del funerale di cui parleremo dopo però è il colore legato alla cerimonia al rito del funerale quindi di solito il viola si evita e c'è anche chi dice che si evita il rosso o diciamo meglio non avere un vestito tutto rosso troppo sgargiato esatto io ce l'ho avuto a un matrimonio ti ricordi? mi sa che sì esatto siamo andate a comprarlo insieme da Sisley è vero è vero ce l'avevo ma era un matrimonio civile è arrivato stimone tu? sì 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 avevo un vestito rosso ecco però sì però bianco e nero assolutamente no e anche questo dicevi però il vestito nero credo che nel sud italia non vorrei dire io non sono mai stata a un matrimonio nel sud quindi non lo so di per certo però si tende di più a vestirsi di nero tipo con il completo elegante anche per le donne tailleur quindi giacca e gonna giacca e pantaloni il tailleur sono un matrimonio? gli invitati? sì sì assolutamente sì le donne anzi sono stata un matrimonio appositano e ricordo questa cosa sì no mi sembra anche molto formale tipo più una cosa da ufficio il tailleur che no no adesso perché è anche cambiato molto il modo di vestirsi in matrimoni adesso se vedi le donne che vanno in matrimonio hanno tutto il vestito lungo eh sì che è una cosa che secondo me è arrivata un po' dagli stati uniti questa cosa del vestito molto lungo prima no ci si vestiva un po' come eleganti ma come si voleva io mi ricordo molti matrimoni fatti con i pantaloni sì sì anche io pantaloni eleganti e magari una camicetta un po' vivace un po' carina oppure un vestitino no ma non necessariamente lungo fino ai piedi sì è una cosa molto recente questa tra l'altro credo che il vestito lungo se il matrimonio di mattina non sia nell'etichetta una roba del genere però ora senza essere troppo formali nell'etichetta l'importante è essere vestiti eleganti e evitare uno di questi colori un'altra cosa che si deve fare attenzione un'altra cosa a cui si deve fare attenzione in Italia se il matrimonio è in chiesa è che le donne non siano scollate quindi che le spalle non devono essere scoperte come la sposa infatti e quindi si compra una stola esatto come una sciarpa sì come una sciarpa di solito di seta o di cotone da mettere sulle spalle in chiesa esatto importante sì forse prima si doveva avere anche la testa coperta però questa roba qua adesso non è più però le spalle mi raccomando sì e magari se il vestito è particolarmente scollato beh nel mondo anglosassone mettetevi la stola credo che ancora le donne vadano i matrimoni soprattutto se madri dello sposo o della sposa col cappello con quegli stupendi cappellini la regina Elisabeth io sogno di essere invitata a un matrimonio in Inghilterra davvero che meraviglia voglio vestirmi col cappello da una parte bellissimo immagino un matrimonio nella campagna inglese qualcuno ci inviti sì quindi si va al matrimonio e basta si va alla cerimonia poi finita la cerimonia si lanciano il riso oppure i petali di rosa esatto sempre dal punto di vista dell'invitato e poi si capisce dov'è il ricevimento quindi di solito si va con una comitiva di macchine si appendono i palloncini bianchi alla macchina e quello te li danno non gli sposi ma il testimonio che ha organizzato il matrimonio ti danno i fiocchi e i palloncini da attaccare sulla macchina per far capire che si partecipa al matrimonio e poi se si segue l'auto degli sposi si strombazza per forza esatto e dopo quando si arriva basta c'è il banchetto il ricevimento come si chiama sì il ricevimento il ricevimento e e quando andate via ovviamente andate a salutare gli sposi e di solito gli sposi vi danno la bomboniera quindi portate a casa un piccolo regalo che vi ricorda questa giornata di solito con dei confetti bianchi abbiamo già parlato che i confetti sono questi come dolci che dentro hanno la mandorla fuori hanno vari gusti però generalmente del matrimonio sono bianchi e si regalano appunto e devono essere cinque esatto dentro la confezione poi in realtà ultimamente gli sposi organizzano la confettata esatto cioè trovate dei vasi pieni di confetti di vari gusti e ti lasciano il tipo un cartoncino o un sacchettino da riempire per portarti a casa tutti i confetti che vuoi mi raccomando andate a salutare gli sposi quando andate via non so se questo ecco un'altra cosa che perché poi noi abbiamo sempre un po' di riferimento ai film americani nei film americani si vede gli sposi che vanno via no? per primi per primi e lasciano gli invitati tipo nel film di Julia Roberts con Julia Roberts il matrimonio del mio migliore amico stupendo loro vanno via e gli ospiti continuano a fare festa io non l'ho mai visto fare al massimo ho conosciuto degli sposi che sono partiti il giorno dopo o anche magari no la sera prima no la sera stessa no che hanno dormito nel posto dove hanno mangiato esatto ultimamente va anche di moda a farlo sì però ecco che siano partiti prima della fine della festa non è mai successo quindi anche questo fateci sapere se nel vostro paese è una cosa comune oppure no qui sarebbe un po' strano no? la gente ti guarderebbe un po' così è vero sì ecco quindi direi che col matrimonio abbiamo esaurito però se avete domande scriveteci sotto se avete commenti esatto fateci sapere ecco poi magari l'ultima cosa magari è carino mandare un messaggio di ringraziamento il giorno dopo il giorno dopo adesso si usa anche whatsapp potete farlo però secondo me è carino mandarlo o penso che di aver passato l'intero giorno successivo nel matrimonio a rispondere ai messaggi che ho ricevuto esatto però insomma è una cosa che fa piacere è bello sì sì tantissimo perché poi tantissimi scrivono è stata una giornata bellissima tu eri bella e mi fa molto piacere bene chiudiamo la parentesi bella e parliamo di funerari perché è interessante anche questa cosa qua e se purtroppo vi dovrà capitare ci sono delle cose secondo noi importanti da sapere sì allora intanto come si viene a sapere di questa della notizia naturalmente spesso è un'altra persona che ci avverte ok che qualcuno è morto però come dicevi tu prima in Italia abbiamo questa usanza dei necrologi sì che sono questi fogli che vengono appesi a dei muri pubblici della città e cosa c'è scritto in questo necrologio c'è scritto il nome grande grande e poi l'età a cui è morto è venuto a mancare l'affetto dei suoi cari questa è la formula sopra è venuto a mancare l'affetto dei suoi cari il nome di anni e quanti anni aveva lo annunciano con dolore di solito e poi le persone care di questa persona può essere il marito la moglie i figli con le nuore con i nipoti poi c'è chi scrive tutti i nomi chi scrive semplicemente la famiglia la famiglia e c'è scritto anche sì c'è scritto anche la data del funerale sì di solito sì a volte c'è scritto le esequie che è la parola formale per funerale saranno il giorno tot nella chiesa tot all'ora in modo che se qualcuno vuole partecipare può andare qualche volta i necrologi sono dopo il funerale quindi è solo perché magari qualcuno vuole un funerale più intimo e quindi non vuole che sia conosciuto e quindi dice ad esequie avvenute la famiglia e quindi questo significa dopo che c'è stato il funerale la famiglia comunica la morte di una persona quindi interessante se una persona è molto conosciuta o era conosciuta prima per esempio aveva lavorato era un professore che ha avuto tantissimi studenti un medico molto conosciuto un politico della città una persona scrittore sì persone molto conosciute la famiglia pubblica anche un annuncio sul giornale allora in questo in realtà è molto diverso da noi per esempio a Firenze non ci sono eh sì a Firenze non ci sono per la strada io davo per scontato che fosse per tutti così no e anzi per me è stato molto strano quando mi sono trasferita qua vedere i necrologi per la strada non ci sono no da noi no da noi sono solo sul giornale e ci sono quelli delle persone comuni di tutti di tutti quindi è normale pubblicare sul giornale chiunque sì 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 ma anche sull'arena sì sull'arena sì ma solo le persone conosciute diciamo della città beh poi la famiglia può fare quello che vuole ma non credo che tutti vengano in automatico no in automatico non lo so cioè la famiglia se decide però non solo le persone famose ok va bene per esempio i miei nonni quando sono morti noi non li abbiamo fatti pubblicare sul quotidiano della provincia no no esatto neanche i miei perché non volevano da noi però non era una cosa che si faceva ogni volta che muore una persona chiama il giornale no però tu guardi la pagina dell'arena adesso ci sono anche le persone che poi vedi sul muro ok va bene non lo so dobbiamo confrontarci con Giacomo che è di Verona su questo perché allora io vengo da un paese piccolissimo per noi è ancora diverso per noi la prima cosa è sentire le campane le campane fanno un suono speciale suonano l'ave maria si chiama quando qualcuno muore quindi senti questo suono inconfondibile sai che è morta una persona due sequenze se è una donna tre sequenze se è un uomo quindi appena comincia a suonare ha morto si dice ci si ferma e si ascolta mia nonna lo faceva e ci ha insegnato a farlo si ascolta la campana suonare e quindi a una donna e un uomo allora mia nonna cosa faceva usciva in giardino chiamava la vicina sai chi è morta e quella era la prima cosa e la seconda è dopo che sai già chi è morto vedere il necrologio per capire quando è il funerale eccetera e da dove sono partita che mi sono persa e sul giornale solamente sarà una persona particolarmente importante e basta no da noi per esempio a Firenze quindi città grande c'è solo sul giornale e persone comuni o persone conosciute ok sì non c'erano mai non ci sono ancora mai per la strada mai viste forse dove c'è alle chiese può esserci una bacheca con scritto quali funerali ci saranno in quella settimana ma anche i necrologi sono diversi tra Verona e il mio paese il mio paese sono dei fogli A4 con scritto abbastanza piccolo perché un foglio A4 è la foto della persona anche qua qualche volta c'è la foto qualche volta sì qua sono dei manifesti sono giganti sono più grandi sì sono un po' impressionanti sì un po' più grossi anche per me sono un po' angoscianti non mi piace vederli ecco comunque in ogni caso scopriamo che qualcuno è morto quindi lo vediamo da questo e quindi la prima cosa che si fa se si conosce la persona si chiama esatto per fare le condoglianze una volta si mandava il telegramma ricordo quando è morto mio nonno nel 95 con tanti anni fa si usava ancora molto mandare il telegramma ne abbiamo ricevuti tanti mamma mia sì strano perché anche se all'interno dello stesso paese la stessa città sì il telegramma era il modo più comune per mandare le condoglianze quindi questo questo saluto per la famiglia in cui si dice che ci dispiace che sia morta quella persona adesso ci sono anche se vogliamo mandarli per posta ci sono dei biglietti a posta che hanno una banda nera e quindi sono proprio i biglietti per le condoglianze quindi magari non comprateli se dovete fare altri tipi di biglietti e poi il compleanno col biglietto listato a lutto si chiama e poi cosa succede allora la maggior parte delle persone tu parla per Firenze perché ho capito che cambia tutto io racconto la mia vai allora adesso nei tempi moderni generalmente una persona muore in ospedale ok quindi tra la data tra il giorno in cui la persona muore e la data del funerale di solito passano uno o due giorni normalmente quindi cosa succede in questo lasso di tempo da noi le persone cioè il cadavere il corpo viene portato in un posto generalmente accanto all'ospedale e da noi a Firenze questo posto si chiamano le cappelle del commiato commiato è una parola che significa addio saluto quindi c'è uno spazio dove la famiglia può stare privato dove c'è la bara della persona aperta generalmente e dove in questi due giorni la famiglia se vuole può salutare gli amici si fa visita alla persona alle familiari agli amici delle persone defunte ed è un momento di raccoglimento da lì poi la bara direttamente va alla chiesa dove c'è il funerale nei due giorni precedenti però sì sì tra la morte e il funerale questo è simile però qui dipende molto da dove muore la persona se muore all'ospedale qui da noi si va alla cella mortuaria che è una cappella ma dentro all'ospedale cioè un po' esterna all'ospedale e lì si trova la bara e intorno di solito viene organizzato un momento di preghiera questo si fa un passaparola se vuoi venire a dare un ultimo saluto c'è il rosario da dire intorno alla bara del defunto oppure può essere anche in chiesa per esempio sempre per passaparola si sa che alle ore 20 del tal giorno si può andare in quella chiesa dove ci sarà un rosario per il defunto esatto quando per esempio quando morì mio nonno nel 95 c'era ancora l'usanza di portare il morto a casa e quindi io ricordo la bara di mio nonno all'ingresso della casa di mia nonna e il cancello si lasciava aperto 24 cioè non la notte però durante il giorno e chiunque poteva entrare e fare un ultimo saluto è stranissima questa cosa adesso non è più possibile credo anche per motivi igienici immagino perché insomma comunque anche per questo quindi adesso non si fa più questa cosa qua dopodiché c'è il funerale in Italia anche per chi non è credente il funerale di solito è in chiesa si è rarissima io non sono mai stata mai a un funerale non religioso ah io sì mia nonna ah ecco si e quindi in caso di tua nonna cosa avete fatto? eh niente era lì nelle cappelle del commiato c'è una parte dove praticamente si si rende omaggio alla persona che muore e quindi c'è una persona celebrante che dice qualcosa sì esatto sì non è molto comune ancora in Italia farsi cremare non è così automatico importante una cosa molto diversa per esempio della cultura del Nord America che conosco le altre perdonatemi non lo so nel Nord America non sempre il funerale è immediatamente dopo no? si può essere anche dopo un mese quindi il corpo viene cremato e poi questo momento di raccoglimento con tutte le persone familiari e amici è anche dopo un mese perché le persone abitando lontano credo si debbano organizzare per incontrarsi per questo momento mentre in Italia è sempre qualche giorno dopo il funerale sì 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 assolutamente non esiste di aspettare una settimana nel caso di morti violente direi esatto ma quello è il massimo di solito è dopo due tre giorni sì si va al funerale che è una messa una cerimonia una messa dove però ovviamente c'è una parte dedicata alla benedizione insomma al funerale al rito del funerale e di solito si saluta la famiglia prima sì esatto o dopo sì dipende sì dipende c'è spesso un libro un quaderno dove si può firmare scrivere esatto lasciare un messaggio questo anche perché la famiglia dopo può con calma vedere chi era presente perché ovviamente in quel momento magari uno non è ovviamente e quindi può magari con calma vedere chi è venuto chi c'era e chi ha lasciato un pensiero e avere anche questo ricordo insomma alla fine può essere anche bello avere questo ricordo quindi se lo vedete sapete che dovete eventualmente se volete lasciare un messaggio e la firma sì è vero e dopo il funerale si saluta la famiglia o gli amici insomma della persona defunta e generalmente si va a casa se non si è parte intima della famiglia e allora si va al cimitero nel caso in cui la persona debba essere interrata e sepolta in una tomba o messa in un loculo o in un loculo esatto però di solito è la famiglia stretta no? no da noi no infatti stavo per dirti a Verona non sono mai stata un funerale quindi non lo so fortunatamente e invece tutti i miei funerali sono stati al mio paese e al mio paese si segue il morto tutti? tutti si parte con il cioè parte il carro funebre che è la macchina che trasporta la bara per primo e tutte le altre macchine vanno in corteo dietro ed è quasi scortesia non andare al cimitero cioè mi ricordo che i miei genitori si fanno dei problemi se non riescono ad andarci per motivi di orario se c'è freddo cioè è proprio si va a dare l'ultimo saluto no da noi no da noi è un po' come lasci la famiglia in questo momento famiglia e amici intimi diciamo ecco però cioè se per esempio muore non so il genitore di un tuo collega che magari è un'azienda ovviamente ah no vabbè ecco in quel caso lì cioè tu vai al funerale però poi lasci che la famiglia vada a seppellire però tante persone vanno al cimitero cioè non solo mogli e figli ma vanno cugini si si famiglia allargata ti dirò e anche amici si di lunga data no sono state al funerale dello zio di mio marito l'anno scorso era o l'anno prima ci sono stata e sì in quel caso siamo andati anche al cimitero e c'erano tante persone ah sì poi appunto dipende sempre però ecco più una cosa che di solito è un po' lasciata alle persone più intime ecco e poi no volevo dire un'ultima cosa che non so se qua a Verona si fa per esempio la mia esperienza di vita in paese molto spesso si può prendere un bigliettino all'uscita con la foto del defunto ah sì ah ok sì con la foto del defunto e una frase mia nonna li conservava mamma mia sì ecco queste cose sono un po' inquietanti per me però forse sì prima si faceva si faceva non lo so se si fa ancora non lo so ma non è mai capitato in città no da noi si faceva il santino si chiama esatto e poi dopo dopo il funerale di solito si va magari anche a casa della persona non subito della famiglia ma ecco anche lì a me dipende dipende puoi andare se la persona se la famiglia ha voglia insomma di avere qualcuno per non so consolarsi per stare un po' insieme per farsi forza così però ecco dicevamo che quello che un po' ci stupisce di quando guardiamo i film americani sono questi ricevimenti in cui ognuno porta qualcosa e mangiano tutti insieme impensabile impensabile proprio non si fa da una parte a me piace affascina perché un altro approccio alla morte esatto che a me piace onestamente perché in effetti la persona che ha perso la persona cara è bello avere un po' di compagnia esatto magari si ricorda la persona che non c'è più ed è un modo forse di consolarsi di farsi forza che a me piace molto ecco è una cosa che non ho mai sperimentato però quando lo vedo non dico ah ma questi festeggiano no anzi e così credo che in molte culture in realtà la morte sia celebrata con delle feste no quindi anche questo è interessante fateci sapere perché qui da noi invece non molto ecco è più un momento di raccoglimento anche quasi personale individuale ah ultima cosa che visto che abbiamo parlato di vestiti per il matrimonio anche per il funerale non è obbligatorio vestirsi completamente di nero no anzi è quasi un po' una presa in giro un po' strano no d'inverno può capitare perché magari si ha il cappotto o la giacca che è scura normalmente quindi ecco però sì io non ho mai badato molto a questo no ecco non con una maglia rossa o con qualcosa di rosso assolutamente sì no ecco non sgargianti colori sgargianti però anche quello non so se è una cosa vera o se è una cosa dei film si vedono tutte queste persone vestite elegantissime nere di nero in Italia assolutamente no io ho un funerale tra due giorni e penso che andrò non di bianco però insomma beige grigio ecco azzurro sì ricordo che il funerale di mia nonna aveva una maglietta azzurra me lo ricordo sì anch'io non ho mai pensato a mettermi la roba nera perché era sì ecco una cosa che non mi piace la voglio dire che le persone hanno gli occhiali da sole per non far vedere che piangono la trovo sbagliata cioè è un funerale sì perché devo nascondere la tristezza ecco io già non porto gli occhiali da sole normalmente non li metto per non far vedere che piango a un funerale insomma mi sembra la cosa più normale quindi è una cosa che non mi piace vedere tutte queste persone tutti con gli occhiali enormi perché insomma ecco quindi quello quello sì fateci sapere se anche in questo caso c'è un colore perché per esempio se non sbaglio addirittura in alcuni paesi non vorrei sbagliarmi del asiatici è il bianco il colore del lutto è vero quindi magari anche il vestito è diverso una cosa cosa si regala al funerale perché a volte si regalano i fiori si manda un mazzo di fiori a casa e a volte la famiglia scrive nel necrologio non fiori ma opere di bene bene sì cioè non vogliono non vogliono ricevere tantissimi fiori ma preferiscono che sia fatta una donazione esatto a qualcuno magari mettono un riferimento di qualche associazione o ricerca medica insomma sì quei fiori invece che vedete per esempio con questa forma qua si chiamano proprio le corone le corone di fiori sono appunto la famiglia le mette con i nomi della famiglia più stretta ecco e uno dei fiori tipici dei funerali o così sono i crisantemi nei cimiteri soprattutto si portano a novembre sì però i fiori le corone sono sempre colorate si può fare anche un cuscino un cuscino di rose ecco va bene sarebbero mille cose da dire sinceramente ma dato che siamo arrivati a 33 minuti ci fermiamo qua esatto però è molto interessante questo ci interessa molto se ci scrivete le vostre usanze le tradizioni le differenze vi prego scriveteci perché è molto molto interessante esatto vogliamo l'occasione per ringraziare tutte le persone che non mancano mai di commentare o lasciare un like anche chi ci manda qualche caffè virtuale ce lo beviamo esatto e nulla speriamo che sia stato molto interessante come lo è stato per noi parlarne fateci sapere vi aspettiamo alla prossima ciao ciao